Buonasera, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telenova e con il nostro TGN che apriamo con la sicurezza, il vertice che si è tenuto oggi in prefettura a Milano. Il ministro Piantedosi è presente, ha parlato di quelle che sono le emergenze partendo ovviamente dalla stazione centrale, ha fatto un'analisi e poi ha detto che sono in arrivo ulteriori risorse, quindi forze dell'ordine che dovrebbero rimpolpare il corpo di polizia e di carabinieri presenti a Milano. Dopo quattro violenze sessuali in dieci giorni e le molte aggressioni, oltre a rapine e borseggi, oggi vertice sulla sicurezza a Milano con la presenza del ministro dell'interno Matteo Piantedosi che nel Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza ha voluto dare un segnale di presenza nel capoluogo Lombardo per sostenere la città in termini di sicurezza e occuparsi con maggior impegno della situazione nella zona della stazione centrale. Secondo il ministro non c'è un'allarme sicurezza a Milano e in Italia. Il ministro ha spiegato che in base ai dati in suo possesso in stazione centrale rispetto al 2019 i reati come furti, rapine, lesioni personali e violenza sessuale sono calati del 39%. I furti, le rapine, le lesioni dolose e la violenza sessuale sono calati nell'anno in corso per effetto dei servizi rispetto al 2019 del 39%. È evidente che esiste un problema di percezione di insicurezze e a questo prestiamo grande attenzione. Altro dato importante che viene assicurato alla giustizia, quasi il 100% dei responsabili di delitti e crimini ha aggiunto. In merito al numero di forze dell'ordine in arrivo a Milano, 430 nuovi agenti che vanno a compensare anche le uscite. Sono oltre 250 quelli che sono in più, complessivamente ha detto e quando parliamo di 430 nuove emissioni parliamo di persone che hanno caratteristiche di grado e di età e operatività per i quali è ragionevole che li troveremo negli scenari operativi. Riducono il differenziale di 150-160 che vanno via e che come requisiti per età e ruoli erano meno votati all'operatività. Si tratta di un dato relativo a quest'anno ma proseguiremo, ha detto il Ministro negli anni prossimi, per un incremento complessivo di circa 6.000 unità come organico nazionale. Ha poi concluso. Nel servizio di Alberto Carreras avete sentito che Piantedosi ha fatto una sorta di distinguo tra i dati e quindi l'emergenza che non c'è secondo i dati sicurezza a Milano e la percezione sostanzialmente. Sentiamo come ha affrontato quest'ultimo tema. Esiste anche un problema di percezione, esiste anche dell'importanza di alcuni reati che va oltre il singolo dato. Quindi non esiste un problema di sicurezza? No. Tutto ciò che, ripeto, induce a preoccupazione le persone, tutto ciò che genera quelle rappresentazioni, ad esempio delle stazioni come luoghi in cui le persone, in particolar modo le donne hanno paura di transitare, è un problema che ci occupa e che ci preoccupa e di cui ci dobbiamo fare carico sostanzialmente. C'era anche il governatore a Lombardo, Tiglio Fontana, presente al Vertice, ha voluto commentare anche lui i dati in particolare, ma anche questa buona notizia che arriva rispetto all'arrivo di nuove forze, diciamo così. Sicuramente, come ha detto il Ministro, è una situazione da affrontare e da risolvere. Il primo sistema è sicuramente quello di implementare il numero degli uomini, quello mi sembra assolutamente. Poi se ci saranno delle modifiche normative ci penserà il Parlamento. Ma lei è d'accordo con il Ministro Pantedosi? Si tratta di non emergenza ma un tema sicurezza? Ma guardi, è una questione lessicale, il problema è che è un problema da risolvere, ha detto il Ministro, è un problema da affrontare. Quindi poi non è emergenza, è emergenza, direi che conta poco, l'importante è che si risolva, che si risolva anche nella percezione che devono avere i nostri cittadini. C'è stato anche un caro del 39% in questi ultimi due anni nell'area di stazione centrale. Se lei ritiene che sia un buon risultato andiamo avanti così, io dico di no. Ecco, caustico in fondo a queste sue dichiarazioni Fontana. C'era ovviamente anche il sindaco Beppe Sala, l'abbiamo visto nelle immagini del servizio di Alberto Carreras, che ha affrontato il tema centrale ma non solo. Quei fatti, che sono purtroppo gli onori della cronaca, non è detto che sarebbero stati evitati se ci fosse stato un maggior presidio. Ma a parte quei fatti io devo rispondere alla signora milanese di 35 anni che mi dice che sono in difficoltà a passare la sera da lì. E la risposta deve essere certamente più telecamere, certamente più illuminazione, ma più forze dell'ordine, che non è che vanno a campione o ogni tanto, come stiamo facendo ritoriamente anche adesso, ma che presidiano con più attenzione quelle aree. Poi, non è solo un problema di repressione, è un problema di farsi carico del disagio che c'è. Non è solo repressione, il Comune farà di più. Oggi si è discusso anche della possibilità di affidarsi e di trovare una collaborazione più formalmente costruita con i city angel della situazione o organizzazioni del genere, perché quello posso aiutare. Rispetto al disagio, oggi è una bruttissima notizia, veramente cruda anche, rispetto a una violenza sessuale consumata a Milano, vittima una senza tetto, responsabile fermato oggi appunto per violenza sessuale dalla squadra mobile di Milano, un altro senza tetto. Arrestato dalla polizia un somalo di 32 anni regolare nel nostro paese, gravemente indiziato per la violenza sessuale consumata tra il 28 e il 29 aprile in piazza Carbonari a Milano. L'indagine della squadra mobile era scaturita dalla denuncia di una donna che aveva segnalato di essere stata vittima di violenza sessuale, da parte di uno sconosciuto che l'aveva individuata in centro città e le aveva offerto assistenza e ospitalità nel suo giaciglio di fortuno, una tenda in piazza Carbonari. La donna aveva la necessità di trovare un riparo e come ha raccontato agli investigatori, l'uomo dopo aver guadagnato la sua fiducia, l'aveva portato in una tenda nei giardini di piazza Carbonari e qui approfittando della sua condizione di particolare fragilità l'aveva costretta a subire atti sessuali. Le indagini sono state avviate dalla sezione specializzata contro i reati a sfondo sessuale della squadra mobile di Milano. Un'indagine condotta in tempi rapidi che ha consentito di trovare elementi che hanno portato a individuare una persona pienamente compatibile con la descrizione fornita dalla vittima. I poliziotti hanno poi effettuato altri accertamenti anche con il contributo di un testimone ed è la stessa donna che ha riconosciuto il presunto autore nel cittadino somalo di 32 anni senza fissa dimora che precedentemente era stato in Piemonte e da qualche settimana si trovava a Milano. L'uomo è stato fermato su disposizione dell'autorità giudiziaria e adesso si trova nel carcere di San Vittore. Ci spostiamo a Monza dove un nullatenente è accusato di aver prestato soldi con tassi di interesse oltre il 190%, sequestrati beni tra contanti orologi per un totale di 225 mila euro. Il servizio è di Michele Lanati. I militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato denaro e orologi Rolex per circa 225 mila euro a un 49enne residente in provincia di Monza, indagato per usura. Il sequestro, eseguito d'urgenze e convalidato poi dalla procura di Monza e dal GIP, è coinciso con la conclusione delle indagini a carico dell'uomo, con precedenti anche per estorsione, accusato di aver applicato tassi di interesse oltre il 190% a diverse persone. Tra loro anche un commercialista brianzolo, che ha dichiarato alle fiamme gialle di aver ricevuto un prestito di 45 mila euro e di averne poi versati 73 mila solo di interessi. Le indagini dei militari monzesi hanno permesso di intercettare i numerosi beni del presunto usuraio, ufficialmente nulla tenente, anche attraverso il monitoraggio dei social network, dai quali è emerso uno stile di vita fatto di auto e orologi di lusso. Il denaro ottenuto con i prestiti è stato in parte trovato in una cassetta di sicurezza, nella quale l'uomo versava i suoi interessi ogni settimana. I finanzieri, nell'ambito delle indagini, hanno rilevato proprio un'anomala operatività finanziaria, caratterizzata da frequenti versamenti di denaro contante e ripetuti accessi presso una cassetta di sicurezza detenuta presso un istituto bancario. Alla fine è scattato il sequestro preventivo d'urgenza di denaro contante per 130 mila euro e 7 orologi Rolex, dal valore, complessivamente stimato, di oltre 95 mila euro. Presentata oggi la riconversione della caserma Garibaldi con tanto di rendering che diventerà un campus dell'Università Cattolica. Vedete adesso le immagini. L'architetto Federico Aldini dello studio Beretta Associati a cui è stata affidata la progettazione ha introdotto questa presentazione. C'erano il ministro Piantedosi, Sala, Fontana, tutti quelli che erano più o meno al vertice sulla sicurezza, si sono poi trasferiti lì. L'intervento di riconversione della caserma in un polo dell'Università Cattolica ha uno straordinario rilievo per la storia dell'Ateneo e per la città di Milano ed è stato reso possibile dalla fattiva cooperazione di molte istituzioni. Con la realizzazione di questo progetto l'Università Cattolica potrà ampliare in modo significativo la propria sede di Largo Gemelli dando forma a un esteso campus universitario proprio nel cuore della città. La prima fase dei lavori, avviata lo scorso 30 gennaio, riguarda l'ala del fabbricato affacciata su via Santa Valeria. Questo primo intervento consentirà di realizzare da subito nuovi spazi didattici per l'Ateneo. L'opera di restauro conservativo del complesso ottocentesco è stata sviluppata in contatto con la sovrintendenza. Di università si parla tanto in questo periodo anche per la protesta degli studenti del Politecnico che sono ancora lì in tenda davanti al rettorato in piazza Leonardo da Vinci a protestare appunto perché gli affitti a Milano sono insostenibili per loro, per i giovani che studiano in città. Il sindaco Sala oggi è tornato a parlare dell'argomento. Domani avremo questo tavolo a Palazzo Merino in cui convochiamo rettori, prolettori interessati alla materia, rappresentanti degli studenti perché qui serve il contributo di tutti. Quindi noi non nascondiamo il problema in numeri, in soldoni. Il problema è che oggi noi contiamo su 13 mila posti letto per studenti. Sono pochi, sono pochi. Sappiamo che i prezzi sono alti però c'è anche una grande progettualità su cui stiamo lavorando. Io ritengo che questo problema andrà a risolversi ma ci vorrà qualche anno. Capisco che chi è in questa fase a dover tornare all'appartamento denuncia la sua difficoltà. Il Ministro Valditara oggi ha detto che sono le giunte di centrosinistra che non sono in grado di affrontare questo problema del caro affitti. Ho letto la dichiarazione, ci sono due possibilità. O è una battuta peraltro riuscita male o è proprio frutto di una riflessione. Se è una battuta, rispondo a una battuta, ma chissà che è così perché gli studenti hanno più voglia di stare nelle città di centrosinistra che non di centrodestra, che accolgono la loro complessità, le loro problematiche. Se è frutto di una riflessione profonda, invece credo che con questa affermazione il Ministro Valditara illumini il Paese rispetto a quello che lui è. Non aggiungo altro per non rovinare il clima anche di armonia che oggi esiste. Ecco, in realtà ovviamente è una stoccata che è di armonia ben poco, però è un pensiero del Sindaco che ovviamente aprirà chiaramente delle polemiche politiche che andranno a rinfocolarsi, diciamo così. Intanto, domenica e lunedì, a proposito di politica, si vota in 106 comuni lombardi per le amministrative. Due i capoluoghi di provincia coinvolti sono Brescia e Sondrio. Il 14 e 15 maggio si torna a votare per le elezioni amministrative. Coinvolti circa 800 comuni in Italia con 7,2 milioni di abitanti. Le comunali saranno un importante banco di prova prima delle europee. Molti sono i piccoli comuni coinvolti. In Lombardia si vota in due capoluoghi di provincia, Brescia e Sondrio, e complessivamente in 106 comuni. Nel milanese si voterà nei grandi comuni a Cinisello Balsamo, Cologno Monzese e Gorgonzola. E poi in nove comuni minori, Arese, Bareggio, Basilio, Bellinzago Lombardo, Bresso, Calvignasco, Cerro Maggiore, Cisliano, Zibido, San Giacomo. La Lombardia è la prima regione d'Italia per numero di comuni al voto, 106 su un totale di 1.504. Nella maggior parte dei casi la sfida si risolverà al primo turno, visto che 94 centri urbani hanno una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, mentre per 12 città potrebbero rivelarsi necessari ballottaggi dopo due settimane, il 28 e il 29 maggio. La provincia con più comuni al voto è Brescia con 17, seguono Bergamo con 11, Cremona con 7, Leco con 5, Lodi con 6, Mantova 5, Milano 12, Monza 7, Pavia 11, Sondrio e Varese con 7 ciascuno. Si vota la domenica dalle ore 7 alle 23, il lunedì dalle 7 alle 15. Come sempre ricordarsi di recarsi al seggio con carta d'identità e tessera elettorale. Il comitato regionale degli Automobile Club della Lombardia con voto unanime ha eletto presidente Geronimo Larussa, presidente di ACI Milano e vicepresidente Andrea Mariani, presidente di ACI Sondrio. Larussa subentra ad Aldo Bonomi del club di Brescia. La presidenza del comitato torna a un rappresentante di Milano dopo oltre 15 anni. Voglio ringraziare il presidente Bonomi per l'eccellente lavoro svolto nel suo mandato e i colleghi presidenti che compongono questo organismo per la fiducia che mi hanno accordato. Ha affermato Geronimo Larussa. Il ruolo del comitato regionale degli Automobile Club della Lombardia, aggiunto, sarà fondamentale per monitorare con studi e ricerche lo stato delle infrastrutture e per sostenere la programmazione e l'ottimale gestione di opere indispensabili per una mobilità efficiente, anche in occasione di grandi eventi come l'ormai imminente appuntamento olimpico di Milano-Cortina 2026. E a proposito dell'Olimpiade, con un investimento per gli elementi infrastrutturali stimato fra i 10 e i 15 milioni di euro, inizieranno quest'estate in Fiera, a Rò, i lavori per la realizzazione della pista di pattinaggio veloce proprio per i giochi del 2026. Lo ha annunciato Oscar Cassa, responsabile dell'area tecnica della Fondazione Fiera Milano. Il progetto prevede l'unificazione di due padiglioni, il 13 e il 15, tramite l'eliminazione del settore tagliafuoco, per ottenere uno spazio di circa 40.000 metri quadrati, come spiegato da Cassa, che poi ha chiarito che la particolarità della pista sarà legata alla dimensione dell'anello, che è di 400 metri, quindi non facilmente impiegabile in palazzetti o edifici dagli standard più canonici per altre attività sportive. Le tribune ospiteranno 6.500 persone ed è prevista l'eliminazione di una serie di pilastri che vanno a interessare l'area della pista e che avrebbero interferito con le riprese televisive. Questo spazio potrà essere poi usato come sede di grandi congressi, fino a 12.000 posti, o per concerti o attività sportive, come il tennis, ha aggiunto Cassa. Presentata oggi presso Cascina Triulza, la Call for Ideas, lanciata dalla Diocesi di Milano per immaginare la presenza della Chiesa nella nascente area Mind. Da domani fino al 30 novembre ci si potrà collegare per proporre idee e progetti, fotografie anche via web. Presente alla conferenza stampa anche l'Arcivescovo del Pini. Il servizio è di Anna Maria Braccini. Una Call for Ideas per immaginare la presenza religiosa in area Mind. È quella che la Diocesi di Milano ha lanciato con una conferenza stampa di presentazione nel contesto dell'Innovation Week presso Cascina Triulza, appunto nell'Ex Area Expo, dove sta sorgendo Mind. La Call che sarà attiva da domani e fino al 30 novembre prossimo. Tutte le informazioni su www.chiesadimilano.it vuole essere un modo per dire che la Diocesi intende come nei secoli passati e fino al recente futuro, essere accanto a tutti i grandi mutamenti della metropoli. Così come ha spiegato l'Arcivescovo di Milano. L'interpretazione di questo spazio dell'innovazione ci provoca a fare domande innovative, percorsi innovativi di per sé, anche il piano Montini o comunque il piano delle nuove chiese è stato condotto da Montini e dal Comitato per le nuove chiese, di cui era Presidente Enrico Mattei, proprio cercando idee nell'arte contemporanea. Quindi vuol dire che alcune delle chiese che sono nate con Montini sono frutto esattamente di una ricerca. Da qui parte, come è stato detto, un percorso. Il fatto che vi sia questa call for ideas, molto aperta come dicevo, che vuole arrivare al dialogo, al dialogo anche che è basato sul pluralismo, sullo scambio di idee tra religioni e anche non religioni, a me pare molto apprezzabile. E quindi cercare di dare un contributo alle inquietudini e alle incertezze che in questo momento soprattutto i giovani stanno vivendo. Vi ricordo che dopo questo telegiornale e il meteo sarà trasmessa la striscia quotidiana alla chiesa nella città oggi, a cura di Anna Maria Braccini, questa sera un approfondimento sulla festa dei fiori con la presentazione dei futuri preti della Diocesi di Milano e poi ovviamente Nova Stadio con il derby di Milano, il primo atto di questa semifinale di Champions. Sono arrivate le formazioni ufficiali, ve le diamo al volo, il Milan gioca con Mignani in porta, Calabria, Chier, Tomori e Teo Hernandez in difesa, Krunic, Tonali e Benasser a centrocampo, Braim Diaz, Giroud e Salemakers davanti, quindi come è previsto Leao non c'è, l'Inter risponde con il 3-5-2 classico con Onana in porta, Darmian a Cervi e Bastoni in difesa, Dumfries, Mkhitaryan, Cialanolu, Barella e Di Marco a centrocampo e Lautaro Martinez e Igeco con Lukaku pronto a subentrare in attacco. Buona serata quindi con il derby anche sugli schermi di Telenova, non mancate, dalle 20 siamo in diretta e ve lo raccontiamo noi, il derby di Milano.